Tre percorsi per raccontare com'era, com'è e come potrà essere la Rimini Balneare. Palazzo Baldini, che ha ospitato i tre giorni di mostra, è uno spazio nel cuore di Corso d'Augusto che lascia bocca aperta. La prima sezione è dedicata al design balneare, con un'attenzione particolare agli anni Ottanta. Era un periodo, quello, agli anni Ottanta, in cui l'arte, il design e un certo stile anche così ironico si legavano fra di loro. Per cui abbiamo, sì, questo oggetto qui, un po' Alain Marret e la Duchamp, molto vicino all'arte, però abbiamo anche, non so, questa bomboniera, così un po' frivola, di ugolapietra. Ecco, anni Ottanta, quindi oltre al tema, quello del design balneare, quindi il tempo libero, l'edonismo reganiano, non so se vi ricordate, in cui la società vive un momento di grande espansione economica e quindi anche il design. La seconda sezione è dedicata all'architettura balneare. Rivediamo le piattaforme di legno sul mare, la più famosa, quella che dal Grand Hotel arrivava direttamente in acqua. C'è anche il Kursal, che in tedesco vuol dire Sala della Cura, molto amata dai turisti teutonici. E ci sono anche le colonie, un tempo il simbolo della civiltà balneare. Sono architetture che sono importanti, che fanno parte anche della storia balneare e della storia locale, che non dovrebbero rimanere in questo stato di abbandono, come li vediamo oggi. Ci sono molte possibilità di sfruttare questi spazi e di utilizzarli meglio. Dagli architetti, anche una proposta concreta su indicazione del masterplan strategico per la zona di Piazzale Fellini, ben lontana dai progetti per il lungomare di qualche anno fa presentati dall'Archistar, che a Rimini non ci hanno mai messo piede. Noi, in coerenza con il piano strategico, diciamo che la rotonda, il simbolo di Rimini, sarà pedonale. Qui invece cerchiamo di lavorare più con l'impostazione less is more, cioè meno però crea più. Abbiamo tentato di far più parlare il landscape e la natura e meno, diciamo, la vera e propria architettura.